Ok, sono le 11 in punto, direi che possiamo iniziare, sicuramente qualcuno si connetterà nei prossimi minuti, però per cercare di rimanere nei tempi prestabiliti partiamo, ad ogni modo il webinar sarà registrato, quindi per chi si è perso la prima parte ci sarà possibile di rivedervi in seguito. Innanzitutto benvenuti a tutti, il tema di oggi è un tema molto importante, avevamo pianificato un webinar, alla fine ne abbiamo fatti 5 durante l'ultima settimana proprio per la quantità di iscritti e per l'interesse che questo argomento giustamente ha suscitato. L'argomento è inerente ai cambi in materia di IVA sul commercio elettronico che entreranno in vigore a partire dal primo di luglio, si tratta di cambi che sconvolgono profondamente i meccanismi attuali che interessano il 99% dei soggetti che sono attivi nell'e-commerce, tanto gli online seller quanto gli stessi marketplace. Vorrei anticipare che questa presentazione è principalmente indirezzata ai seller che da domani si dovranno confrontare con le nuove regole e di conseguenza cercheremo di mantenere il più possibile concreta, pratica senza entrare in tecnicismi esagerati o dibattiti filosofici sull'IVA e sulle nuove misure applicate che interessano più noi consulenti fiscali ma rischiano poi di fare solo confusione e andare a complicare ulteriormente la comprensione delle nuove regole. Prima di entrare nel merito della presentazione un paio di commenti e indicazioni sulla gestione del webinar alla fine della presentazione dediceremo un po' di tempo alle domande, potete comunque già fare le vostre domande durante la presentazione e insomma alla fine delle slide cercheremo di riprenderle tutte, in caso non ci riusciremo risponderemo poi in seguito via mail a tutto il gruppo con le risposte mancanti. Il webinar è in diretta, potete in ogni momento rivedere una parte precedente e tornare live con l'apposito tasto e poi infine come dicevo dopo la presentazione condivideremo con tutto il gruppo dei partecipanti sia la registrazione che il materiale di supporto che vedremo in seguito. Di cosa andremo a parlare oggi? In agenda abbiamo quattro punti fondamentali Innanzitutto quali sono le novità e a chi si applicano? È il punto probabilmente più importante. Secondo luogo cosa bisogna fare in pratica a livello amministrativo, quindi una volta che si sono comprese le nuove regole e questo è un processo iniziale di questi giorni fino ad arrivare al primo luglio poi bisognerà confrontarsi con gli avventimenti per i prossimi anni e qui vengono gli aspetti più pratici, quindi la registrazione e le dichiarazioni. Dedicheremo poi un po' di tempo ad alcuni casi pratici che anche con esperienza sui webinar precedenti che abbiamo fatto sarà il momento forse dove poi sarà più facile comprendere nello specifico come le regole vanno a impattare insomma i diversi business model e infine ci sono un paio di link sulla normativa rilevante e su alcune risorse che poi condivideremo dopo la presentazione. Vedo che il numero dei partecipanti cresce, prima di entrare nel merito della presentazione diamo ancora un paio di minuti, so che una buona parte dei partecipanti sono già clienti di Marosa ad ogni modo per quelli che non lo sono vorrei dedicare un paio di minuti a presentare Marosa e cosa facciamo Marosa è uno studio tributario che si occupa di vente comunitaria basicamente offriamo una soluzione centralizzata per viva in tutti i paesi europei quindi a differenza dei consulenti tradizionali che normalmente si focalizzano su un paese del quale conoscono e sono esperti per tutti gli adempimenti è un pochino il ruolo del nostro commercialista in Italia noi abbiamo scelto una sola imposta che però trattiamo in tutti i paesi europei quindi siamo in grado di offrire questa soluzione centralizzata a aziende che hanno obblighi a livello fiscale in altri paesi europei che molto spesso si riducono alla gestione dell'IVA quindi facciamo solo IVA ma in tutti i paesi europei facciamo più di 1000 registrazioni, aperture di partite IVA all'anno e oltre 20.000 dichiarazioni siamo molto attivi nel settore e-commerce, facciamo parte del service provider network di Amazon abbiamo tool specifici che ci supportano nella preparazione delle dichiarazioni riducendo il più possibile l'intervento umano e il rischio di errore abbiamo un team che si occupa solo di online seller e circa un 80% dei nostri clienti sono online seller e Amazon seller questo per dire che siamo altamente specializzati nella gestione di e-commerce e che conosciamo in maniera molto approfondita sia gli adempimenti che si rendono necessari in generale ma specialmente anche in connessione poi ai programmi offerti da Amazon e siamo pratici con tutti i file e i report che si possono esterare da Amazon questo giusto a livello di una breve introduzione vedo che ci avviciniamo ai 100 partecipanti quindi insomma un buon numero per iniziare direi con la trattazione nello specifico come dicevo il primo punto andiamo a vedere quali sono gli aspetti principali della nuova normativa cercando di mantenere un piede nelle regole attuali e l'altro nelle regole future quindi focalizzandosi un pochino sui cambi partendo dal riferimento delle regole attuali che la maggior parte di voi sono sicuro che già conoscete e vedere come vengono cambiate innanzitutto è rilevante dire che l'OS prevede in realtà tre regimi che sono l'OS, il regime UE, l'IOS e il regime non UE l'OS è il blocco di normative che si applica alla vendita a distanza di beni che avvengono all'interno dell'Unione Europea quindi quando sono quelle vendite B2C per cui i beni vengono inviati da un paese dell'Unione Europea a un consumatore finale localizzato in un altro paese dell'Unione Europea e queste sono quelle che da oggi per come formulate e definito nella nuova normativa si definiscono vendite a distanza intercomunitarie inoltre è rilevante dire che l'OS può essere utilizzato sia da seller stabiliti all'interno dell'Unione Europea che da seller stabiliti al di fuori dell'Unione Europea e che per quanto riguarda i seller stabiliti all'interno dell'Unione Europea applica eventualmente anche per servizi prestati a consumatori finali l'IOS invece si riferisce alle vendite di beni a consumatori finali quando i beni sono inviati da un paese esterno all'Unione Europea a un consumatore finale, direttamente a un consumatore finale localizzato all'interno dell'Unione Europea quindi ad esempio beni vengono inviati dalla Cina a un consumatore finale in Spagna importante che vengano inviati direttamente nel momento in cui questi beni vengano importati ad esempio in Italia, stoccati in Italia e dopo venduti insomma al cliente spagnolo per rimanere sullo stesso esempio questo tipo di transazione non ricade nell'IOS ma ricade sempre nell'OS anche l'IOS può essere utilizzato tanto da seller stabiliti all'interno dell'Unione Europea quanto da seller extra UE in ultimo abbiamo il non-union scheme che è riservato solo ai servizi prestati a consumatori finali da fornitori stabiliti al di fuori dell'Unione Europea quindi al finito di questa presentazione siccome ci vogliamo centrare principalmente sulle vendite a distanza quindi di beni i regimi rilevanti sono l'OS per le vendite all'interno dell'Unione Europea tanto da parte di seller stabiliti o non stabiliti all'interno dell'Unione Europea e l'IOS per vendite di beni importati da paesi esterni all'Unione Europea inviati direttamente al consumatore finale il comune demominatore di tutti questi schemi è che funzionano come uno sportello unico quindi che consente di applicare l'IVA del paese di destino dichiarandolo però e pagando l'imposta nel paese d'origine quindi il senso di questo pacchetto di norma è senz'altro quello di portare una certa semplificazione andando a ridurre gli adempimenti andando a consentire l'applicazione del paese del IVA del paese di destino evitando l'onere di registrarsi in tutti i paesi e presentare decine di dichiarazioni in tutti i paesi vedremo che questa intenzione ha portato ai risultati attesi e porterà in realtà ai risultati attesi solo in determinate circostanze in molti altri casi in realtà in virtù delle eccezioni che ci sono in diversi casi porterà a in realtà una complicazione dello scenario rispetto a prima un'ultima menzione su questi schemi è che sono tutti opzionali quindi è una possibilità che viene offerta ai contribuenti di evitare di registrarsi in tutti i paesi di destino e dichiarare l'IVA in un unico paese fare solo una dichiarazione in un paese ma non è assolutamente obbligatorio aderire c'è sempre la possibilità per una ragione o per l'altra di mantenere le partite IVA attive andiamo adesso a vedere quali sono i cambi nel primo di questi regimi l'OS, quindi come dicevamo il campo di applicazione dell'OS sono le vendite B2C tra paesi dell'Unione Europea quindi ripetendo quello che abbiamo detto prima prodotti stoccati in un paese dell'Unione Europea per esempio l'Italia e dall'Italia inviati a consumatori finali localizzati in altri paesi dell'Unione Europea ad esempio la Germania o la Spagna fino al 30 giugno resta in vigore il pacchetto precedente di regole che prevede una semplificazione per la quale fino a determinate soglie di protezione per paese è possibile applicare l'IVA del paese di provenienza dei beni a raggiungimento di quelle soglie che in generale sono 35.000 euro con qualche eccezione a 100.000 euro questo è il range 35-100.000 che era previsto dalla direttiva IVA dell'Unione Europea quindi fino al raggiungimento di queste soglie si applica per esempio se il seller invia i prodotti dall'Italia all'IVA italiana al raggiungimento per esempio se si vende in Francia fino a 35.000 si applica l'IVA italiana al raggiungimento dei 35.000 bisogna essere pronti a applicare l'IVA francese essere pronti a applicare l'IVA francese con le regole attuali cosa significa? significa che bisogna intanto aprire una partita IVA francese presentare dichiarazioni ovviamente applicare l'IVA francese nelle proprie fatture o corrispettivi presentare dichiarazioni periodiche in Francia e pagare l'IVA direttamente alle autorità francesi con le nuove regole che entrano in vigore a partire dall'1 luglio come cambia la cosa le soglie di protezione sono state annullate è stata inserita solo una soglia minima di 10.000 euro complessivi per cui è possibile applicare l'IVA del paese di provenienza dei beni è una soglia complessiva quindi non sono 10.000 euro solo per la Francia ad esempio sono 10.000 euro in totale se io vendo 5.000 euro in Francia e 5.000 euro in Germania sono già arrivato alla soglia dei 10.000 euro e a partire da quel momento sarò obbligato ad applicare l'IVA del paese di destinazione in tutti i paesi in cui vendo quindi se facessi poi una vendita in Austria o una vendita in Estonia una sola vendita nell'anno dal momento in cui sono arrivato a quella soglia dei 10.000 euro sarò tenuto ad applicare l'IVA del paese di destinazione quindi si anticipa moltissimo l'applicazione dell'IVA del paese di destinazione inoltre su questa soglia dei 10.000 euro è rilevante notare che non applica in determinati casi abbastanza comuni ad esempio quando il Selle è un'impresa stabilita al di fuori dell'Unione Europea per esempio se è un'impresa svizzera o un'impresa del Regno Unito la soglia dei 10.000 euro non applica e non applica neanche quando si vende da stock localizzati in più di un paese europeo quindi quando si utilizza il programma pane europeo di Amazon ad esempio o comunque FBA in un altro paese europeo la soglia dei 10.000 euro non conta più e bisogna applicare l'IVA del paese di destinazione fin dalla prima vendita quindi fino adesso più che una semplificazione in realtà abbiamo assistito a una complicazione rispetto al sistema precedente la semplificazione arriva nel momento in cui non è più per poter applicare l'IVA del paese di destinazione dei beni non è più obbligatorio aprire una partita IVA in quel paese e presentare dichiarazioni mensili e trimestrali in quel paese pagare l'IVA direttamente alle autorità di quel paese ma sarà possibile fare registrarsi nel regime OS nel proprio paese di residenza nel caso della maggior parte dei partecipanti di oggi in Italia fare un'unica dichiarazione trimestrale in Italia nella quale si va a riportare lo split per paese quindi 100 di vendite con 20 di IVA in Francia 100 euro di vendite con 19 di IVA tedesca e così via e andare poi a fare un'unica dichiarazione cioè presentare questa dichiarazione in Italia e andare ad effettuare un unico paramento alle autorità italiane sulla base poi della dichiarazione ovviamente gli stati membri compenseranno le posizioni fra di loro quindi queste insomma per quanto riguarda l'OS in generale le regole sono queste ora andiamo a vedere l'IOS e poi dopo in seguito abbiamo un paio di slide sul programma paneuropeo di Amazon e su quelle che sono poi le eccezioni e i casi particolari che vanno poi a impattare l'applicazione dell'OS e gli obblighi dei contribuenti quindi l'IOS andiamo a vedere nello stesso modo che abbiamo fatto per l'OS quindi comparando quello che succedeva prima con quello che succede dopo allora l'IOS si applica alle vendite B2C all'interno dell'Unione Europea quando i beni vengono inviati da un paese esterno dall'Unione Europea per esempio la Svizzera a un cliente finale localizzato in un paese europeo e quando il valore totale dell'invio non supera i 150 euro fino ad oggi il seller deve prendere una sorta di decisione nel senso deve decidere chi sarà l'importatore ufficiale colui che il cui nome appare sui documenti di importazione dei beni quindi i casi le possibilità sono due il cliente può agire da importatore essere quello che in inglese si chiama importer of record in questo caso sarà proprio il cliente a dover pagare l'IVA di importazione e i dazi doganali nel momento in cui il corriere gli consegna il bene se no c'è il caso 2 il caso B in cui il fornitore quindi il seller ad agire da importatore e sarà quindi il seller a dover pagare l'IVA all'importazione ed emetterà poi una fattura o un corrispettivo al cliente finale con applicazione dell'IVA locale sarà praticamente un'importazione seguita da una vendita locale nel primo caso il seller non ha nessun obbligo di identificarsi ai fini IVA lo svantaggio di questo caso a fini commerciali principalmente è che tutti insomma il carico amministrativo cui cioè che si risparmia il seller viene spostato sul cliente mentre invece nel caso B è necessario che il seller si identifichi ai fini IVA nel paese in cui importa e quindi poi vada a presentare le dichiarazioni le dichiarazioni cioè paghi l'IVA all'importazione si identifichi ai fini IVA e metta una fattura con IVA locale al cliente finale e poi dovrà presentare le dichiarazioni periodiche nelle quali riporterà sia l'IVA all'importazione pagata in dogana sia l'IVA applicata al cliente finale e poi andrà eventualmente a pagare la differenza tra le due queste regole applicano in realtà e continueranno ad applicare in caso di invii superiori ai 150 euro quindi le regole che abbiamo discusso ora sono le regole in vigore per tutte ad oggi fino al 30 giugno per tutte le importazioni insomma questo tipo di vendite B2C per cui i vendi partono dal dal di fuori dell'Unione Europea si consegnano un cliente finale localizzato nell'Unione Europea al di là del valore dell'invio a partire dall'1 luglio continueranno ad applicare per invii superiori ai 150 euro ma per invii inferiori ai 150 euro entrerà in vigore il nuovo regime IOS quindi il nuovo regime come IOS cosa prevede prevede che l'importazione dei beni sarà esente quindi non si applicherà IVA all'importazione e si applicherà direttamente nella fattura o corrispettivo dal seller al cliente finale IVA del paese del cliente finale il seller può optare per registrarsi nel regime OS che in maniera analoga per quello che accade per l'OS gli consentirà di dichiarare l'IVA nel paese in cui si è registrato per l'OS effettuare un unico pagamento e far sì poi che gli stati membri vadano a compensarsi fra loro le posizioni ecco quindi questo sono i due principali regimi l'OS e l'IOS e come 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 funzionerà a partire dall'1 di luglio vale la pena dire un paio di parole su alcuni aspetti che forse per il fatto che la maggior parte dell'audience di oggi sono imprese stabilite vendaria forse non impatta più di tanto però per completezza è giusto menzionare intanto abbiamo anticipato il regime non EU è applicabile per servizi B2C prestati da fornitori non europei un'altra cosa che già abbiamo menzionato nel precedente che le vendite a distanza di beni importati del valore superiore a 150 euro contano le vecchie regole quindi bisognerà stabilire chi sarà il soggetto che si incarica dell'importazione colui che ufficialmente effettua l'importazione se sarà cliente non c'è bisogno per il seller di alcuna registrazione nel paese del cliente ma il cliente dovrà pagare l'iva di importazione dai tassi doganali se al fornitore sarà necessario pagare l'iva di importazione e registrarsi applicare l'iva al cliente finale e registrarsi e finiva in quel paese una cosa molto importante è il nuovo ruolo dei marketplace i marketplace assumono una nuova funzione una cosa che abbiamo già in qualche modo visto in Regno Unito dopo il Brexit in realtà è il Regno Unito che sulla base delle bozze dell'e-commerce package dell'Unione Europea diciamo ha preso spunto nei meccanismi comunque il nuovo ruolo del marketplace in alcuni casi il marketplace diventa fornitore presunto quindi non sarà più il seller che vende direttamente al cliente finale ma sarà il seller che vende al marketplace e il marketplace che vende al cliente finale e il marketplace che sarà responsabile per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA verso le autorità questo quando avviene in due casi uno quando ovviamente il prerequisito è che la vendita venga attraverso un marketplace se la vendita attraverso avviene attraverso un e-commerce ovviamente questo tipo di responsabilità al marketplace non può applicare e poi applica quando il fornitore ha stabile organizzazione al di fuori dell'Unione Europea quindi ad esempio un seller stabilito in Regno Unito o in Svizzera oppure quando i beni vengono spediti al di fuori da fuori dell'Unione Europea e hanno un valore inferiore a 150 euro quindi anche nel caso di un seller italiano che invia prodotti dalla Svizzera a un cliente finale localizzato in Francia utilizzando un marketplace ad esempio Amazon il marketplace diventa fornitore presunto questo è uno strumento adottato dall'Unione Europea per assicurarsi il pagamento dell'imposta da parte di imprese non EU o in caso di beni provenienti da paesi extraeuropei che spesso sono stati oggetto in passato di illusione fiscale un altro concetto che viene introdotto dal nuovo pacchetto di norme è quello di intermediario l'intermediario è un soggetto riconosciuto dalle autorità locali che deve essere nominato quando il fornitore ha stabile organizzazioni al di fuori dell'Unione Europea e sta effettuando vendite a distanza di beni importati quindi questo intermediario è necessario solo ed esclusivamente per un seller extra Unione Europea che si deve registrare nell'IOS quindi uno Svizzera ad esempio che invia prodotti dalla Svizzera all'Unione Europea e vuole usufruire dell'IOS l'intermediario è un soggetto corresponsabile per gli obblighi del seller e riconosciuto dalle autorità locali ad esempio Marosa offre questo servizio di intermediario per i seller non non europei che si registrano nell'IOS scusate andiamo a vedere allora il programma pane europeo di Amazon come tutti sapete e prendiamo il programma pane europeo ad esempio perché è la circostanza più frequente in cui gli online seller mantengono uno stock di beni in paesi esteri quindi con il programma pane europeo come tutti sicuramente sapete è possibile dare in consegne ai beni ad Amazon nel proprio paese ad esempio il seller italiano dà in consegne ai beni ad Amazon in Italia e autorizza in seguito Amazon a movimentare questi beni in vari paesi europei fino all'anno scorso dovevano essere tutti i paesi FBA di Amazon a partire da quest'anno è possibile sceglierli quindi il risultato è che si mantiene uno stock in vari paesi europei con gli ovi vantaggi a livello commerciale quindi essendo in Amazon Prime o in tutta Europa o comunque nei paesi in cui si è autorizzato lo stoccaggio e abbattendo notevolmente i costi di invio la brutta notizia è che le nuove regole sull'e-commerce non applicano quando avviene un movimento di stock quindi quando avviene un movimento di stock in altri paesi europei le regole non cambiano ed è ancora necessario aprire una partita IVA in quel paese ai fini di riportare i movimenti di stock tra i magazzini che si configurano come acquisizioni intercomunitarie i movimenti in entrata in cessione intercomunitaria eventuali movimenti poi in uscita quindi tra magazzini esteri e le vendite locali che si effettuano nel paese quindi avendo stock in Germania ad esempio la vendita che del magazzino tedesco va al consumatore finale localizzato in Germania deve essere riportata in dichiarazione IVA tedesca c'è poi una complicazione perché nel momento in cui si effettuino vendite al di fuori dei paesi di stoccaggio quindi ad esempio dal magazzino tedesco quindi un seller italiano che ha stock di prodotti attraverso il programma pane europeo semplifichiamo in Italia e in Germania attivato solo questi due parelli si dovrà registrare in Germania aprire partite in Germania fare dichiarazioni presentare dichiarazioni mensili in Germania e dichiarare in queste dichiarazioni le vendite a consumatori finali tedeschi se poi effetto a vendite al di fuori della Germania ad esempio un cliente austriaco compra sul marketplace tedesco oppure si vende anche su altri marketplace in cui non si stocca dallo stock italiano e tedesco è anche poi necessaria applicare l'IVA del paese di destinazione su queste vendite tanto più che la famosa soglia dei 10.000 euro non applica nel momento in cui si mantiene stock si effettuano vendite a distanza intercomunitaria da più di un paese dell'Unione Europea quindi per la maggior parte direi dei seller che sono nel programma pan-europea in realtà la situazione si complica perché prima avevano partita IVA nel paese di stoccaggio e dovevano aprire altre partite IVA solo nel momento in cui arrivavano un'eventuale soglia di protezione quindi fino a 35.000 euro per esempio di prima di vendite effettuate a clienti in Austria potevano applicare l'IVA tedesca sebbene saliva dalla Germania o l'IVA italiana sebbene partiva dall'Italia adesso invece saranno tenuti ad applicare l'IVA ai paesi di destinazione e registrarsi nell'OS sempre che non optino per non aderire al regime OS e applicare l'IVA del paese insomma aprire la partita di l'IVA direttamente in Austria passando agli adempimenti un po' veloce perché poi avremo dedicare un po' più di tempo ai casi pratici e alle domande dove come ci si deve registrare per l'OS e l'IOS le imprese dell'Unione europea si registrano nel proprio paese di residenza quindi imprese italiane si registrano nell'OS e eventualmente per l'IOS in Italia le imprese residenti al di fuori dell'Unione europea si registrano per l'OS in uno dei paesi in cui stoccano prodotti se stoccano prodotti in più di un paese si dovranno registrare cioè potranno scegliere quale insomma quale paese registrarsi per l'IOS come dicevamo è necessario un intermediario quindi se si utilizzerà insomma la registrazione avverrà nel paese dell'intermediario ad esempio con Marosa sarà in grado di svolgere la funzione intermediario sicuramente in Italia e in Belgio tutti i clienti non EU che utilizzeranno Marosa come intermediario si registreranno all'IOS in uno di questi due paesi alcuni seller che possono fornire prestare sia servizi che vendere beni online che possibilmente erano già registrati nel MOS c'è la possibilità almeno così è previsto dalle linee guida della commissione che la dichiarazione di MOS venga automaticamente convertita in una dichiarazione OS è una possibilità prevista dall'Unione Europea bisogna vedere poi se gli stati membri effettivamente la attueranno le istanze di registrazione devono essere presentate necessariamente teleclimaticamente per il discorso nel caso dell'Italia ad esempio è necessario avere le password di accesso alla riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate nel caso dell'OSS è relevante menzionare che si mantiene la stessa partita IVA quindi non si del paese di residenza quindi un seller italiano registrerà la propria partita IVA italiana all'interno dell'OSS non avrà non gli verrà attribuito un numero OS separato per l'IOS invece sì che ci saranno dei un numero separato ecco da qua abbiamo un esempio del portale insomma irlandese per la registrazione l'unica cosa da rimarcare qua è che come vedrete se accedete nel vostro spazio dedicato nell'agenzia di entrate c'è una serie di domande che hanno una rilevanza a fini fiscali da rispondere sulla propria attività e sulle proprie situazioni il nostro consiglio è quello che sia Marosa o che sia un altro consulente di appoggiarsi a qualcuno che ha la conoscenza per poter rispondere in maniera adeguata a queste domande perché si potrebbe incorrere nel rischio con un semplice TIC o una semplice casella completata poi di avere ripercussioni in futuro passiamo alle dichiarazioni allora le dichiarazioni per l'OS sono trimestrali e per l'IOS sono mensili e la scadenza è sempre l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di dichiarazione quindi per l'OS la prima dichiarazione da presentare sarà per il periodo per il primestre luglio agosto settembre sarà a fine ottobre 2021 per l'IOS la prima sarà a fine agosto per il periodo di luglio come abbiamo già detto si effettuerà un solo pagamento alle autorità del paese di registrazioni in termini di sanzioni ed eventuali accertamenti è rilevante menzionare che normalmente il primo avviso sarà inviato dal paese di registrazione quindi se vi scrivete all'OS in Italia normalmente un primo avviso vi sarà inviato eventualmente speriamo di no dalle autorità italiane nel momento in cui ci saranno successive comunicazioni successivi avvisi dalle autorità locali saranno poi le autorità del paese di destino a mettersi in contatto con voi quindi c'è ancora il rischio purtroppo a partire dalla seconda comunicazione di ricevere notificazioni direttamente dall'autosità polacca in polacco o dall'autosità tedesca in tedesco rispetto alle dichiarazioni è utile dire che in diversi paesi ancora non sono state pubblicate tra cui l'Italia però per la prima presentazione c'è ancora qualche mese e quindi ce lo spieghiamo a tutti che non pubblichino il modello gli ultimi tre giorni ma ci lasciano un pochino di tempo per poterlo analizzare in alcuni paesi la dichiarazione OS e IOS sono consolidate in alcuni altri paesi invece saranno due dichiarazioni separate da dover inviare sono sempre in lingua locale quindi in Italia saranno in italiano e gli importi devono essere indicati in euro o in caso di paesi con altre monete in moneta locale convertita sempre con i tassi di cambio pubblicati dalla BCE questo è un esempio di dichiarazione questa è quella spagnola come vedete c'è insomma ogni linea per riportare insomma il paese il paese di consumo la liquota IVA l'imponibile e l'IVA passando ai casi pratici quindi il primo caso che presentiamo è un'impresa dell'Unione Europea che vende online dal proprio magazzino quindi un'impresa italiana in effetto a vendite online inviando i propri prodotti dal proprio magazzino situato in Italia a consumatori finali localizzati in Italia e altri paesi dell'Unione Europea è stata superata la soglia annuale dei 10.000 euro di vendita a distanza in tre comunitari quindi quali sono gli obblighi di questa di questa impresa beh le vendite B2C dall'Italia a altri paesi europei avendo superato la soglia dei 10.000 euro sono tassabili nel paese di destino quindi sarà necessaria una dichiarazione OS a meno che non si opti per registrare la prima partita in tutti i paesi di destino in dichiarazione IVA italiana bisognerà comunque riportare le vendite B2C effettuate dall'Italia a consumatori italiani e si riporteranno anche gli acquisti una cosa una cosa che non abbiamo menzionato è che nella dichiarazione OS non è possibile dichiarare nessun acquisto quindi riportare IVA in detrazione l'IVA verrà comunque l'IVA credito verrà comunque riportata nella dichiarazione del proprio paese di stabilimento e in questo caso aderendo all'OS non sarà necessario aprire alcuna partita IVA straniera in termini di registrazioni quindi registrazione all'OS necessaria e partita IVA straniera non necessaria diciamo che questo tipo di selle hanno un vantaggio nel momento rispetto al sistema precedente nel momento in cui avevano volumi di vendite che superavano che gli imponevano cioè che superavano le soglie di protezione in uno o più paesi quindi se si superava la soglia in tre paesi prima bisognava avere tre partite IVA adesso è sufficiente si possono chiudere queste partite IVA registrarsi nell'OS e fare un'unica registrazione in Italia per selle che non superavano le soglie di protezione in realtà è un ulteriore obbligo perché prima potevano vendere dall'Italia ai paesi di destinazione applicando IVA italiana fino a soglia abbastanza importante per esempio se vendeva in Germania e Francia erano 100.000 solo per la Germania 35% solo per la Francia ora a partire da 10.000 complessivi si devono registrare nell'OS e fare una dichiarazione in OS passando al prossimo caso un'impresa che vende online ben inviati da fuori dall'Unione Europea quindi un'impresa svizzera ad esempio effettua vendite online inviando i prodotti dal proprio magazzino situato in Svizzera a consumatori finali localizzati in vari paesi dell'Unione Europea il valore di ogni invio è inferiore a 150 euro quindi questa impresa dovrà come dicevamo spendere di sotto i 150 euro potrà effettuare dichiarazioni IOS quindi non si applicherà IVA in importazione applicherà direttamente l'IVA del paese di consumo nelle vendite ai consumatori finali si potrà registrare nel regime IOS dichiarazioni IVA straniere non saranno necessarie quindi bisognerà registrarsi nell'IOS e non aprire nessun'altra partita IVA qua un paio di punti quando le vendite vengono effettuate attraverso un online marketplace l'obbligo di dichiarazioni IOS ricade sul marketplace come avevamo detto quindi in questo esempio specifico non si dovrebbe registrare nell'IOS il seller direttamente e qualora il valore dell'espedizione possa invece superiore ai 150 euro l'IOS non è applicabile e quindi andiamo a quel meccanismo che abbiamo discusso all'inizio della presentazione per cui bisogna stabilire chi è l'importer of record e da lì andare a vedere insomma quali sono le implicazioni se è necessario registrarsi o meno passando al prossimo caso pane europeo FDA registrazione finiva un'impresa italiana effettua vendite online attraverso Amazon l'impresa aderiva al programma pane europeo ed ha attivato lo stoccaggio in Germania Francia e Spagna oltre che in Italia inoltre l'impresa vende attraverso un proprio sito web inviando i prodotti dal proprio magazzino italiano ai clienti finali in vari paesi europei in questo caso come abbiamo detto nei paesi di stoccaggio è necessario aprire una partita IVA al fine di presentare dichiarazioni IVA nelle quali si dichiarano i movimenti di stock e le vendite a consumatori finali localizzati nel paese di stoccaggio quindi le vendite ad esempio Germania-Germania invece le vendite B2C che si effettuano dall'Italia ad altri paesi europei attraverso il proprio e-commerce oppure da uno qualsiasi del paese di stoccaggio a un altro paese europeo andranno dichiarate IVA quindi sarà ancora necessaria la registrazione nel regime OS siamo arrivati alla fine della presentazione una parola veloce sulle risorse principali alle quali potete fare il riferimento dopo la presentazione condivideremo le slide quindi avrete la possibilità di cliccare su questi link a vedere il materiale intanto abbiamo pubblicato sul nostro sito un manuale dell'OS per il momento in inglese lo stiamo traducendo in italiano quindi nei prossimi giorni sarà disponibile in italiano nel quale abbiamo un po' semplificato e ristrutturato le guide pubblicate dall'Unione Europea le fonti principali alle quali fa riferimento pubblicate dalla commissione sono la guida sull'OS e le note esplicative sono documenti un po' lunghe un po' lunghi più di un centinaio di pagine sono lo strumento principe chi veramente volesse approfondire nel dettaglio tutti i possibili casi può fare riferimento a questi documenti che infine abbiamo preparato una tabella nella quale abbiamo in considerazione una serie di scenari e gli obblighi che ne derivano anche questa la condivideremo nell'email che riceverete siamo arrivati alla fine del tempo che avevamo previsto dedicherei ancora 5-10 minuti per andare a rispondere alle alle domande quindi dovreste ora vedere non più la presentazione ma solo la mia la mia immagine vedo che abbiamo abbastanza domani una ventina di domande vedremo di rispondere nel più possibile Andrea dice io vendo su Amazon con questa nuova normativa verranno aboliti i limiti massimi di fatturato oltre a quali la necessità prima partita IVA nel paese estero sì era una domanda ricevuta all'inizio di presentazione effettivamente le soglie di protezione dei 100 mila euro in Germania o dei 35 mila euro nella maggior parte dei paesi vengono aboliti e si applicherà sempre l'IVA di destinazione salvo i soggetti ai quali applica la soglia dei 10 mila euro dove posso trovare le aliquote IVA agevolate per ogni singolo paese dell'Unione Europea allora sul nostro sito sul sito di Marosa potete trovare una tabella di tutte le aliquote applicabili nei vari paesi europei in più l'Unione la Commissione Europea ha pubblicato possiamo anche condividere nell'e-mail quando inviamola la registrazione del webinar e del materiale di supporto ha pubblicato una pagina nella quale attraverso i codici prodotto è possibile andare a verificare le partite IVA in ogni paese di destinazione quindi le fonti sono queste buongiorno grazie per questo approfondimento Antonio grazie per partecipare come sell vendiamo solo sul market italiano ma alcuni prodotti sono stati venduti all'estero le cifre all'estero sono bassissime come dobbiamo comportarci se staccate solo in Italia i prodotti quindi sono inviati da Italia all'estero l'azienda comprendo che è stabilita in Italia a fine 10.000 euro potete applicare la riva italiana al raggiungimento di 10.000 euro sarà obbligato ad applicare i vari paesi di destinazione Claudia buongiorno al limite dei 10.000 euro si riferisce alle vendite dal 1 luglio al 31 dicembre buona domanda non è chiarissimo nei documenti pubblicati dalla commissione comunque l'approccio più condiviso è che la soglia debba considerarsi a partire dall'1 gennaio 2021 quindi se già l'avete superata dovreste entrare nell'oss già a partire dall'1 di luglio 2021 Claudia le vendite B2B sono quindi esclusi dal conteggio dei 10.000 euro perché vengono gestite con fattura arriva a zero river charge grazie mille esatto sì tutto questo pacchetto di misure si riferisce solo alle vendite B2C l'oss si riferisce alle vendite a distanza di beni intracomunitarie quindi come dicevamo beni inviati da un paese A a un consumatore finale localizzato in un paese B nel momento in cui il cliente non è un consumatore finale ma è un'impresa allora si effettua un'accessione intracomunitaria di beni che si fatturerà dalla partita iva italiana e si dichiarerà in partita iva italiana se un sale è extra c'è ma vuole aprire posizione in Italia come si deve comportare con l'IOS non mi è chiaro se il fatto che abbia logistica in Italia lo faccia rientrare nell'oss o rimanga nell'IOS no allora l'IOS è solo ed esclusivamente per le vendite a distanza di beni importati e per vendite a distanza di beni importati si intendono beni inviati da un paese extra Unione Europea direttamente a un cliente finale nell'Unione Europea quindi direttamente il bene deve andare dalla Cina al consumatore finale in questo caso bisogna registrarsi nel IOS sempre che il marketplace non sia il fornitore presunto nel caso invece in cui i beni vengano stoccati ad esempio in Italia e da lì venduti a consumatori finali tanto in Italia quanto in altri paesi europei allora diventa rilevante l'OSS dall'Italia Giulia se ho partita iverstock nell'Unione Europea ad eccezione della Spagna non mi cambia nulla o posso applicare l'OSS solo in Spagna in tutti i paesi dove hai stock Giulia devi continuare a mantenere le partite IVA attive per le vendite che effettui a consumatori finali da uno qualsiasi di questi stock in altri paesi dell'Unione Europea devi scegliere o applichi l'OSS o apri una partita IVA in tutti i paesi di destinazione non si possono fare scelte ibride nel senso se applichi l'OSS devi applicarlo per tutte le vendite in paesi in cui non hai stock se invece decidi non vuoi decidere apri una partita IVA in Spagna per applicare per dichiarare le vendite a consumatori finali in Spagna anche se non ho stock e applico l'OSS in tutti gli altri paesi europei dove non ho stock no o applichi l'OSS o ti registri in tutti i paesi di destinazione nel caso non si aderisca all'OSS l'apertura della partita IVA nel paese di destinazione è necessaria solo al superamento della vecchia soglia no la soglia è comunque quella nuova dei 10.000 euro l'applicazione dell'IVA nel paese di destino è comunque molto anticipata le opzioni poi sono applico l'IVA nel paese di destino alla vecchia maniera aprendo la partita IVA nel paese di destino oppure mi registro nell'OSS evitando di aprire tutte le partite IVA Claudia per il seller che aderisce al pane europeo il limite dei 10.000 euro vale solo per le vendite che partono dal paese UE dove si ha la partita IVA verso i paesi in cui non si sono identificati a finiva per i seller che aderiscono al programma pane europeo facendo vendite a distanza intercomunitaria da più di uno stock la soglia dei 10.000 euro non conta quindi questo tipo di seller dovrà registrarsi a finiva a partire dal primo insomma dalla prima vendita in paese in cui non stocca dovrà registrarsi nell'OSS scusate l'IVA sulle spese di trasporto seguirà quella delle merci e cioè applica quella del paese del cliente beh qua bisogna vedere bisogna capire bene la domanda nel senso se si riferisce all'IVA che il trasportatore eventualmente fattura al seller bisognerà cioè quello è un servizio B2B verrà fatturato senza IVA la partita IVA del paese di stabilimento del seller non è possibile mettere IVA in deduzione su acquisti vale anche per le note di variazione tipo note di credito no quando ci sono note di credito è possibile riportarle in dichiarazioni in dichiarazioni OS quello che non è possibile fare è dichiarare acquisti o importazioni quelle vanno comunque dichiarate nella 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 dichiarazione IVA del paese di stabilimento ecco Fabio qualora Amazon ha fatto un restock del mio prodotto ad esempio per un reso rimesso in vendita come nuovo ma in un magazzino estero rispetto a Italia dove è stoccato normalmente il prodotto come mi devo comportare riguardo a quel prodotto una volta che verrà rivenduto spedito quindi da quel magazzino estero allora se non avete intenzione di aprire partita IVA in quel paese dovete sincerare nel setup di Amazon nel seller center che i vostri vendi non venneranno messi a disposizione per la rivendita perché su questo tema non cambia la situazione di oggi e anche l'approccio di Amazon di chiusura dell'account per chi tocca prodotti e non si registra quindi se voi vendete per esempio in Germania dichiarando le vendite in dichiarazione OSS quindi senza aprire partita IVA in Germania dovete poi sincerarvi che eventuali resi non vengano rimessi a disposizione per la rivendita in Germania perché se questo avviene vi scatta l'obbligo di apertura della partita IVA tedesca e molto spesso prima che ve ne accorgiate Amazon tra l'altro vi bloccherà l'account sono arrivato adesso è possibile arrivare alla registrazione Gabriele sì certo dopo il webinar invieremo a tutti la registrazione la nostra azienda vende su Amazon abbiamo già partita IVA aperta in Germania Francia Spagna Repubblica Cerca e Pologna recitiamo di non espanderci ulteriormente l'iscrizione all'off non è necessaria ma l'osso obbligatorio o su base volontaria no l'osso è su base volontaria se voi avete partita IVA in questi 1, 2, 3, 4, 5, 6 paesi europei 5 paesi europei e vendete a clienti che sono solo all'interno di questi 5 paesi non avete bisogno dell'osso perché comunque in tutte le vendite potete poi dichiararle nelle dichiarazioni IVA locali della quale avete la partita IVA il problema sorge se attivate le vendite ad esempio sul marketplace olandese o svedese o se vendete anche a clienti che si trovano che comprono su questi marketplace ma da altri paesi europei esempio cliente austriaco che compra sul marketplace tedesco e in quel caso avete dovete applicare l'IVA ai paesi di destinazione e dovete registrarvi nell'osso l'oretta complimenti allo stivo ciao grazie a te l'oretta di partecipare una volta Andrea una volta registrati all'osso ci sono tempi lunghi di attesi cosa la conferma o è immediata buona domanda lo stiamo scoprendo anche noi nel senso che abbiamo fatto le prime registrazioni qualche giorno fa ancora sono insomma si stanno processando da parte della dell'amministrazione quindi diciamo attualmente sì che c'è un po' di tempo tecnico da parte loro speriamo che una volta consolidato il processo diventi una cosa un pochino più una cosa un pochino più veloce abbiamo ancora 5 o 6 domande ma siamo arrivati a mezzogiorno siamo già siamo già oltre il tempo limite risponderemo a queste poche domande via mail ringrazio tutti per aver partecipato al webinar e come ho detto in fase iniziale condivideremo la registrazione i materiali di cui abbiamo parlato durante la registrazione e in caso di aggiornamenti invieremo anche al gruppo di tutti gli iscritti a questo webinar eventuali aggiornamenti sull'applicazione del regime e sugli aspetti pratici che potrebbero essere chiariti nei prossimi giorni ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti